Ciao, oggi vi parlo di un titolo adatto ai giocatori più esperti, con tantissimi materiali e una grossa presenza scenica in tavola e ambientato nell'antica Tokyo. Vi parlo di Iki, gioco di Koda Yamada, per 2-4 giocatori, una durata di circa 90 minuti a partita e dedito da Genos Games. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute Recensioni Minute Ogni partita è suddivisa in 12 più 1 mesi e durante ciascun mese si attraversano sempre queste tre fasi. All'inizio di ciascun mese vengono estratte nuovi 4 personaggi, dopodiché i giocatori, in ordine di tracciato antincendio, dovranno piazzare la propria pedina Ikizama su una di queste 5 caselle, che decreterà non solo l'ordine del turno in corso, ma anche esattamente di quanti passi si muoverà il proprio Oya Kata lungo la via principale. Ora, seguendo questo nuovo ordine di turno, i giocatori eseguiranno questi tre passi. Prima di tutto possiamo scegliere se prendere 4 nuove monete oppure reclutare un nuovo personaggio. Ad esempio io posso pagare 2 monete per reclutare questo personaggio. Qua abbiamo il costo, qua abbiamo il suo tracciato esperienza e questo è l'effetto che ci darà una volta in plancia. Piazzo il personaggio sul tabellone e metto un mio kobun a indicare il suo livello attuale di esperienza. Eseguo quindi i passi che ho selezionato, 1, 2, 3. Ora posso scegliere se attivare l'abilità del negozio di uno dei personaggi nella retrobottega oppure entrambe le cose. Pago quindi una moneta per recuperare un riso come indicato in questo negozio e recupero un riso utilizzando l'abilità del mio personaggio. Se il personaggio fosse stato di un altro giocatore, esso avrebbe guadagnato esperienza. Il terzo passo mi fa rimuovere semplicemente il mio Ikizama dal tracciato. Quando tutti hanno terminato si eseguono quindi le operazioni di fine mese. Nei primi due mesi di ciascuna stagione semplicemente si tireranno fuori nuovi quattro personaggi e si giocherà continuando da dove siamo rimasti. Quando invece si arriva alla fine di una stagione è giorno di paga quindi tutti i propri personaggi in plancia più quelli che si sono ritirati forniranno i bonus indicati dal loro livello di esperienza. Poi si controllano i quattro negozi più le quattro caselle centrali e per ogni gruppo di almeno due personaggi della stessa tipologia i proprietari collezionano preziosi punti vittoria. Infine ciascun personaggio ancora in plancia dovrà consumare un'unità di riso. Al termine di queste operazioni inizierà quindi la nuova stagione con nuovi segnalini pipa e tabacco, nuovi segnalini pesce e nuove carte personaggio. Nel corso della partita poi scopriranno esattamente tre incendi in negozi casuali. I giocatori che avranno personaggi all'interno di quei negozi dovranno avere sufficiente protezione antincendio per evitare che i personaggi muoiano nell'incendio. Alla fine del tredicesimo mese i giocatori sommeranno punti vittoria fatti fino a quel momento punti dati dai personaggi differenti, dai pesci differenti punti dati da pipe e tabacco punti da eventuali edifici che sono stati costruiti e tutto quello che è stato avanzato neanche da dire chi ha il punteggio più alto è il vincitore. Ho cercato di riassumere un po' la struttura del turno ma come avete visto è spezzettato in varie sottofasi che vanno apprese nella loro interezza per riuscire a pianificarlo al meglio. Peraltro notate che ciascun mese si gioca sempre nello stesso modo ma ci sono degli inneschi di fine stagione e degli incendi che comportano delle piccole regole addizionali anche queste vanno sicuramente padroneggiate sin dall'inizio partita per non rimanerne schiacciati o sorpresi. Diciamo che potete ragionare in questo modo c'è una sorta di fase collaborativa in cui si prendono i personaggi e si piazzano nei vari negozi questi personaggi sono di vostra proprietà ma possono essere utilizzati da chiunque dovete quindi pianificare al meglio l'ordine di turno e di quanti passi far muovere il vostro Oyakata in maniera da fare più affari possibili combinare quindi al meglio lo spendere risorse nei negozi per ottenere dei vantaggi e attivare le abilità speciali dei propri o altrui personaggi. Tutte queste opzioni vanno concatenate per creare un motore sempre più performante all'interno della vostra plancia giocatore non sarà possibile decidere sin dall'inizio della partita la vostra strategia perché è l'uscita delle carte casuali e c'è una fortissima interazione al tavolo fra i vari giocatori dovete quindi cominciare a capire nella stagione di primavera e estate in che cosa state diventando bravi e poi spingere sempre di più in autunno quindi definirete la vostra strategia al meglio per fare la botta di punti all'interno dell'inverno ci saranno giocatori che riusciranno a costruire edifici altri giocatori invece avranno preso tanti pesci nel corso della partita diversi fra di loro in modo tale da massimizzare questo punteggio ancora si può aver fatto un bel mix di tabacco e pipe o ancora prendendo i personaggi giusti e concatenandoli con le loro attivazioni di fine stagione è possibile aver collezionato tantissimi punti proprio già nel corso della partita stessa vi parlavo poi dell'interazione che è molto alta e complica ulteriormente le cose in una ristrettezza di risorse che già ci metteva del suo c'è la scelta dei personaggi per scegliere dovrete mettervi nel primo spazio ma nel primo spazio farete magari pochi passi e non riuscirete a raggiungere il negozio giusto oppure qualcuno si è messo proprio sui tre passi che volevate fare voi e quindi voi siete costretti a scegliere il 2 e spendere risorse per fare un passo addizionale o ancora volevate attivare il vostro personaggio ma qualcuno l'ha attivato prima di voi gli ha fatto guadagnare esperienza facendolo ritirare è vero che sarete contenti che il personaggio non dovrà più mangiare riso e vi darà un sacco di bonus a fine di ciascuna stagione però appunto quell'attivazione vi poteva far gola perché avevate in mente un qualcosa di più grosso per quanto riguarda poi la pressione dell'incendio vi dico che è molto secondaria in qualche modo riuscirete sempre a far salire il vostro indicatore incendio quindi non ci sarà bisogno di dedicarsi completamente semplicemente ogni tanto dovrete tenerlo d'occhio non mi è mai capitato di vedere qualcuno che perdesse un personaggio per via dell'incendio arrivo quindi ai consigli vi consiglio la prima partita in 3 giocatori in 2 c'è una sorta di mezzo giocatore fantasma che in qualche modo vi lascia un po' più larga l'interazione ma ci sono anche meno risorse e vi riuscirete a fare meno cose belle grosse in 4 giocatori invece sarete molto stretti l'interazione si fa sentire e se non avete bene padronanza di tutto il turno dovete pianificarlo sin dall'inizio potreste trovarmi un po' spiazzati e non riuscire a fare quasi nulla quindi in 3 giocatori imparate bene il flusso di turno nelle plancettine ci sono queste iconcine che all'inizio vi sembreranno un po' incomprensibili ma dopo vi assicuro che vi riassumono perfettamente il turno quindi potrete pianificare molto bene tutto quello che succede nella prima partita lo dovrete seguire tante volte e dalla seconda invece andrà via un po' più pulito giocherete quindi la vostra partita e sarete pronti davvero per dar battaglia concludo quindi dicendovi che se siete giocatori esperti in grado di gestire quindi tante cose una struttura di turno non particolarmente lineare e con forte interazione al tavolo allora Iki potrebbe fare al caso vostro vi vedi dal caso a una partita e non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima devo dire che Iki mi ha colpito tantissimo dal punto di vista dei materiali in tavola ci vuole tantissimo spazio le carte sono riccamente illustrate le iconcine sono tutte funzionali all'inizio sembrano strane ma poi è comodissimo allo stesso modo se devo trovare un difetto però è come se ci fosse tanta ambientazione in alcuni momenti e nessuna ambientazione in altra e questa cosa un po' stride banalmente ci sono personaggi che possono entrare in scena e all'interno dello stesso mese uscire di scena per andare in pensione in questo caso quindi non dovranno mai mangiare il riso e vi danno delle rendite e non si capisce perché se li utilizzate voi diciamo non guadagnano esperienza ma se li usano gli avversari sì insomma non fatevi troppe domande tenete l'ambientazione un po' come un flavor di sottofondo e vedrete che Iki funziona se cercate di ricordarvi le regole con l'ambientazione potreste fare un po' fatica almeno a noi è capitato così detto ciò fatemi sapere le vostre impressioni lasciatemi i commenti qua sotto i vostri pollici su pollici giù non dimenticate che potete sostenere il progetto dei censori minuti utilizzando i link per acquistare magliette come questa i giochi come quello che vi ho presentato o offrirmi un caffè e non mi resta che salutarvi con un ciao ne a